Le emozioni, le conquiste, le difficoltà, ma anche i sogni, le tante esperienze. Autunno a Tricchiana, il festival promosso dalla locale Proloco, supportata dall'amministrazione comunale, dà voce a protagonisti di mille avventure e al loro rapporto unico con la montagna e l'ambiente che ci circonda. Alessandro Bau, alpinista, guida alpina e storyteller, è stato il primo a raccontarsi davanti al pubblico riunito in Sala San Felice. Autunno a Tricchiana quest'anno compie 36 anni, è una manifestazione che negli anni si è trasformata e che in questi ultimi 4-5 anni comincia a vivere il mondo dell'avventura a 360 gradi. Nasceva come l'espressione massima dell'avventura intesa come scalate di montagna e grandi vette dolomitiche e vette extraeuropee. Poi negli anni abbiamo cercato appunto di raccontare attraverso gli occhi dei nostri ospiti il mondo dell'avventura. Quattro gli appuntamenti in scena fino al 29 novembre, un'occasione per scoprire e riscoprire attraverso le voci dei protagonisti l'essenza stessa del territorio. Per me la cultura della montagna è riuscire a trasmettere il rispetto per la montagna e diciamo scoprire la montagna, essere consapevole di quello che è stato la storia, vivere il presente e cercare di trasmetterlo ai giovani e ai meno giovani come voglia e desiderio di vivere la montagna diciamo a 360 gradi. Un progetto che si rinnova nel tempo e che riesce a coinvolgere un pubblico sempre più variegato. Fa sì che la popolazione abbia modo di conoscere persone che hanno fatto delle esperienze di vita particolari quindi dei cammini, dei viaggi e offrono alla popolazione la possibilità appunto di incontrare delle persone che hanno proprio a livello anche internazionale hanno una creatura importante. Sabato 16 novembre al centro San Felice protagonista sarà l'esploratore, speaker e divulgatore ambientale Alex Bellini. Ancora una volta continua dunque l'impegno della Proloco a favore della comunità pensando inoltre già ai prossimi mesi. Avremo qualche sorpresa per il dopo Natale, abbiamo già mandato fuori qualcosa riguardante i Krampus poi ci saranno altre novità. Ovviamente sotto l'albero faremo sempre qualcosa per i nostri paesani e poi ci sarà da lavorare per l'anno nuovo.